Ecco i dati auditele relativi alla giornata del 25 settembre, caratterizzata dagli approfondimenti politici per la giornata elettorale. Come di consueto sono usciti in mattinata, seppur in leggero ritardo rispetto alla tabella di marcia, tutti i dati dell'auditele riferiti al 25 settembre 2022. Una giornata un po' diversa dal solito, particolarmente per quanto riguarda la fascia della tarda serata che si è dovuta adattare allo spoglio delle schede elettorali in diretta. Con numerosi approfondimenti politici in onda sulle diverse reti. Occhi puntati sulla sfida in seconda serata fra Enrico Mentana e la sua celebre maratona Mentana e Bruno Vespa con lo speciale lezioni di porta a porta che hanno seguito per ore lo spoglio delle schede elettorali fino a tarda notte, Mentana. Tra l'altro, è ancora in onda e lo sarà fino alle 20 e 30 di oggi. A spuntarla alla fine è stato Bruno Vespa. Che si è portato a casa un 18,7% di share, mentre il collega di la 7 ha ottenuto un dopo tutto ottimo 12,3%. Ancora ottimi risultati per Maria De Filippi e i suoi amici, riuscito a battere di misura la concorrenza di Domenica Indemar a Venier con un 23.5% di share. Qui sotto il dettaglio dei risultati audite il di ieri, divisi fra mattina, pomeriggio e sera. Grazie a tutti i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori.